Jerome Tiro! La palla è ancora lì Palla che termina sul fondo e corre Jokou Sissoko E il portiere riesce su piedi Affonda il contrasto Inizia il contrasto Si impossesse della sfera lungo la fascia C'è un calco Sbaglia completamente la misura del tiro Cerca di sottrargli la sfera Liverpool che si fa avanti Pagbola Johnson Prova il cross Colpisce di testa Che parata! Steven Gerrard è pronto a battere il calcio d'angolo Ecco Gerrard Si soccora Passaggio a buon fine E' da solo Prova! Palla fuori Angolo per il Liverpool Questa è la statistica riferita Bentley Tiro! Partina tranquillissima Pagbola 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 Pagbola